Sì, a breve, signorina Croft. Ho altre questioni urgenti che richiedono la mia attenzione. Certamente, Takamoto-san. Sto cercando un frammento di spada, esposto all'università di Uaseda, almeno prima che lei lo rubasse. Non sono un ladro. E lei farebbe meglio ad astenersi da simili accuse. Allora passiamo subito alle negozazioni. Non ho la più pallida idea di cosa stia parlando. Certo che lo sa. Mi dica un prezzo. Signorina Croft, non ci sente? Non saprei. Vediamo. Perché non mi implora come l'ultima volta che ci siamo visti? Corose! Imasukuiare! Imasukuiare! Chuanici. me repleni che giù. etc Mi il равно delle ic lefte, dica. Quella dove l'hai trovata? Don Ton, mai arrivare una festa a mani vuote. Takamoto è sicuramente rientrato nel suo attico. Non lo segua Lara, i suoi uomini la staranno aspettando. L'altro è una trappola mortale, lo so che ami le sfide, ma questa non sarebbe una scelta vincente. Se non si può scendere, meglio salire. Come si raggiunge il tetto? Il tetto? C'è un ascensore? Presti attenzione, stanno facendo dei lavori. Non so che dirti Lara. È per questo che dobbiamo affrontare il problema da un'angolazione diversa. In questo caso... Lara, questa è una follia. Lara, questa è un'angolazione diversa. Lara, questa è un'angolazione diversa. Ok, da qui in poi le cose si complicano. Questa somiglia a una fabbrica della jacuzza. Allora troviamo un modo per chiuderla.